Ancora buon viaggio, ben trovati da Firenze Smart e da Mauro Ciutini. Partiamo con la variante di valico tra Fiorenzuola e Daglio, il traffico è lento per materiali dispersi in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno alla strassigna code per viabilità esterna che non riceve in uscita da Firenze. Sempre sulla strada di grande comunicazione tra Firenze-Scandicci e Scandicci, un veicolo è fermo direzione Livorno. Personale su strada sulla 1, siamo tra Firenze-Sud e Incisa-Reggello, lavori in entrambe le direzioni. Veniamo ai treni, il 4136 Roma-Pisa viaggia con 26 minuti di ritardo per un inconveniente tecnico sulla linea. Per il momento ci fermiamo qui, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio, a dopo! Grazie a tutti!